23 ottobre 1920 nasce a Omegna sul lago d'Orta Gianni Rodari giornalista e scrittore per l'infanzia amatissimo da generazioni di bambini inizia a lavorare in quotidiani di sinistra da ordine nuovo all'unità a paese sera negli anni 60 pubblica filastrocche in cielo in terra favole al telefono jeep nel televisore favola in orbita di Gianni Rodari del 1973 è il suo capolavoro pedagogico indirizzato a insegnanti e genitori la grammatica della fantasia introduzione all'arte di inventare storie muore a Roma il 14 aprile 1980 il maestro Gianni Rodari è considerato un gigante della letteratura per l'infanzia e per i ragazzi del ventesimo secolo era anche un pedagogista il suo la grammatica della fantasia è considerato un capolavoro pedagogico per stimolare la lettura la creazione di testi e la fantasia in adulti e bambini pochi sanno forse però che è stato anche un giornalista ha iniziato in Lombardia e poi è stato il direttore della rivista nuovo ordine fondata da Antonio Gramsci e altri intellettuali nel 1919 a Torino peccato che sia morto presto a 59 anni ci avrebbe regalato tante altre belle storie penso che il mio libro di Verne sia il viaggio al centro della terra ecco vuoi raccontarcelo vuoi raccontarci brevemente la trama raccontare la trama non so se può dare un'idea del libro ma c'è un professore che è tedesco i professori devono essere sempre tedeschi che ha letto su un certo documento che un certo islandese sarebbe arrivato una volta al centro della terra che c'è un passaggio in Islanda da riconoscere con questi segnali e lì ci sono dei segnali molto misteriosi insomma lui va a copenhagen si imbarca e da copenhagen lui è il nipote che più che un discepolo è uno che fa la corte alla nipote del professore allora vuol farsi bello agli occhi del professore vanno in Islanda trovano questo punto magico dopo aver attraversato ghiacciai montagne lave così via scendono scendono Verne è stato un grande anticipatore dai viaggi sulla luna ai sottomarini queste cose qua ecco come mai tu hai scelto invece proprio il romanzo che ancora non si è avverato cioè il viaggio al centro della terra perché sì non ti so dire però vorrei farti questa osservazione che questa storia del Verne anticipatore non è mica del tutto vera Verne non ha mica inventato il sottomarino il sottomarino è stato usato nella guerra americana 50 anni prima nella guerra tra americani e inglesi ecco vuol dire d'accordo però ha sviluppato ha sviluppato molto alcune anticipazioni però le ha date no no ce ne sono di più nelle storie di Gordon lui era uno che stava attento a tutto quello che allora si scriveva di scientifico la divulgazione scientifica non ha conosciuto un periodo più intenso in Francia soprattutto come quello editori autori che sono diventati famosi tra la Francia e la Germania e lui questa divulgazione la assorbiva da poeta e ci trovava le sue immagini tra le tra le tante sue avventure lui ha mandato un pezzo di terra legata a una cometa e tu invece hai mandato in cielo una torta e c'era un'allusione volevi prendere in giro lui o gli ufo? No figuriamoci né Verne né gli ufo io avevo sentito dire da un mio collega che ha vissuto tanto tempo in America una volta si parlava di qualche cosa e lui per dire che erano castelli in aria sogni chaton suede o così disse a pie in the sky cioè una torta in cielo come come dico io sì una torta in cielo una cosa impossibile ma io mi sono annotato questa frase una torta in cielo sulla bustina dei Minerva allora fumavo ancora una delle 500.000 sigarette che ho fumato prima di smettere poi il giorno dopo sono capitato in una scuola volevano una storia e io ho raccontato l'inizio di questa storia di una torta in cielo quindi è uscita proprio dalla frase la torta è uscita dalle parole grazie a tutti